Una cosa bella è di dipingere, da riflettere un po' di più di dove sei, perché altrimenti fare una foto, scatta una foto, va via, non rendi conto di dove sei proprio. E questo mi piace disegnare, perché tu fermi e tante volte anche comunico con la persona, bellissimo, perché dalla foto lo scappano, ma quando tu disegni, specialmente i bambini, vengono a curiosare, a chiedere, ma com'è, ma via, eccetera, eccetera, è così. Per esempio, qualche disegni. Usiamo di solito acqua e regla, perché è molto più veloce di altri mezzi. Qualcuno fa paura, ma comunque acqua e regla, in viaggio, è leggero, è molto più efficace di tutti gli altri. È così. Grazie.